Ma la musica per Bix non era un capitolo chiuso. Nei primi mesi dell'anno successivo lavorava febbrilmente alle ultime sue composizioni per pianoforte, che non incise ma che dettò all'arangiatore Bill Cellis. Bix non conosceva una nota di musica, si limitava a crearla. La sua penultima composizione ha per titolo Flashes e come un flash trascorse gli ultimi mesi della sua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.